Più di 28 mila euro donati in poche ore, una cifra così elevata da rendere necessaria la sospensione della raccolta fondi per eccesso di offerte. Dopo la grandine sono piovute donazioni in favore di Giuseppe Savino, l'imprenditore agricolo foggiano che assieme al fratello Michele coltiva il campo di tulipani distrutto dalla violenta grandinata che ieri mattina si abbattuta sulla provincia di Foggia. Una sciagura meteorologica che aveva gettato nella disperazione il giovane floricoltore che attraverso un video girato con un telefonino e diventato virale sul web si è lasciato andare in un pianto adirotto per i gravissimi danni subiti dai suoi amati fiori. Un filmato di soli pochi secondi va sufficienti a commuovere il popolo della rete che mosso da un moto di solidarietà aveva lanciato l'idea di aiutare economicamente lo sfortunato imprenditore. Una proposta accolta dal diretto interessato che con il fratello Michele e tutto il team di Cascina Savino ha avviato una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFundMe per recuperare almeno parte dei costi sostenuti per la coltivazione e i risultati sono stati davvero strabilianti. In meno di 24 ore l'iniziativa di solidarietà ha permesso di raccogliere ben 28.329 euro frutto delle circa 2.200 donazioni arrivate dagli utenti del web. Una somma così alta da spiazzare probabilmente lo stesso organizzatore che così ha deciso di sospendere momentaneamente la raccolta per eccesso di offerte. Un'ondata di generosità capace di scrivere un lieto fine sulla vicenda come il sole che torna a splendere dopo la tempesta.